Salve amici di Advanced Italian, in questo video andremo a vedere quattro verbi che sono sinonimi tra di loro ma che hanno alcune differenze di fondo che è importante capire per non sbagliare il loro uso. I verbi sono accogliere, adottare, accettare e ammettere. Come sempre vi spiegherò il loro significato, la traduzione in inglese, vi farò degli esempi di come si usano e vi spiegherò anche in quali contesti si possono usare e in quali no. Cominciamo subito con accogliere, accogliere significa to welcome, to accept, to accommodate, ossia in senso positivo, stai dando il benvenuto a qualcuno, qualcuno viene da te ma tu sei contento che lui arrivi, gli stai dando il benvenuto, non lo stai semplicemente lasciando entrare. E' sempre inteso in senso positivo, sia per una persona che per un'idea. Accogliere qualcosa significa accettare con piacere qualcosa. Non è mai inteso in senso negativo. So, to welcome, to accept, to accommodate. Ricevere presso di sé e ammettere nel proprio gruppo. La cattedrale dovrebbe accogliere 2600 persone. Significa anche accettare, approvare una richiesta o accettare un'invito, eccetera. O accolto l'invito, si può dire. Accolto subito le nostre richiesta. He accepted our request immediately. Può essere una richiesta, un invito, una preghiera. Però sempre, come vi ho detto, in senso positivo. Accoglierlo con piacere. Non essere costretto a farlo. Adottare, to adopt. Si può usare per persone ma anche per idee. Però contesti diversi significa anche significato diverso. Adesso andremo a vedere il perché. Prendere come proprio il figlio di altri con l'atto legale dell'adozione. Molti attori famosi hanno adottato bambini dall'Africa. Many famous actors have adopted children from Africa. Quindi significa prendere un bambino, un figlio, ma anche adolescente, più grande. L'adozione legalmente si può fare in qualsiasi età. Che non è tuo, però lo adotti e legalmente lo consideri tuo figlio. Gli dai il tuo cognome, ti assumi delle responsabilità legali per lui, eccetera. Quindi hai preso il figlio che è di un altro e l'hai adottato e adesso lo consideri tuo e legalmente è tuo. Non sei il padre biologico, ma sei il padre legale, diciamo così. Far proprio nel senso di un'idea, di una parola, di una preghiera, eccetera. L'italiano adotta parole da altre lingue. Italian adopts words from other languages. Quindi prendere parole che non sono in italiano, ma adottarle come se fossero parole italiane e cercare di inserirle nel vocabolario della tua lingua. Come ad esempio, ci sono molte parole internazionali che in quasi tutte le lingue vengono usate così. Ad esempio, taxi. Taxi non è una parola italiana. La x tra l'altro non viene usata nell'italiano. E però l'italiano l'ha adottato dall'inglese probabilmente. Quindi si possono anche adottare parole. Adesso che questa parola è stata presa dall'inglese, probabilmente, è stata adottata dall'italiano. Quindi la parola italiana per taxi è taxi. È stata adottata ed è considerata parte del vocabolario italiano. Non è che lo usano determinate persone, lo usano tutti. Quindi, attenzione, diversamente da accogliere, qui si può intendere anche in senso negativo. Cioè, accetto qualcosa perché non ho altre possibilità. È inevitabile. Non posso fare altrimenti. Sono costretto a farlo. Non è che mi... Sono felice di farlo, lo faccio con piacere. Posso anche farlo perché sono costretto. La proposta non era allettante, ma alla fine ho accettato. The proposal wasn't tempting, but in the end I accepted. Si può anche riferire ad una persona a mettere a cogliere... A mettere qualcuno in un gruppo. Più complemento predicativo letto da come, per. Cioè, accettare qualcuno come amico o accettarlo per amico. Ma, sostanzialmente, si usa come. Sentirete più dire lo ti accetto come mio amico, piuttosto ti accetto per amico. Comunque, non è grammaticalmente sbagliato. Anche qui, lo ammetti, lo accetti, lo accogli nel tuo gruppo, la persona, ma puoi anche essere costretto. Cioè, l'ho accettato nel mio gruppo perché, anche se non mi piace, perché il mio migliore amico me l'ha chiesto di farlo. Mentre se dico, l'ho accolto nel mio gruppo, significa che sono veramente felice che lui sia venuto. Magari gliel'ho chiesto varie volte di aggiungersi al mio gruppo, ma non ha voluto. Quindi, in entrambi i casi, posso essere anche costretto, sia ad accettare un'idea o una richiesta, che ad accettare una persona. In senso riflessivo, accettarsi significa essere contenti di se stessi, pur nella consapevolezza dei propri limiti. Quando si usa però in senso riflessivo, solitamente, è sempre inteso in senso positivo. Se tu accetti te stesso, ti sei accettato, significa che hai accettato tutti i tuoi difetti, nel bene e nel male, e quindi sei contento di come sei, ti sei accettato. Quando si usa per idee e per persone, non in senso riflessivo, può essere anche inteso essere costretto ad accettare qualcosa. Mentre qui è sempre in senso positivo, se parliamo del verbo accettare in senso riflessivo, sia accettarsi. Si tratta di accettarsi per quello che si è. Quando tu accetti quello che sei, come sei fatto, significa che non hai più problemi con te stesso. Tu puoi avere mille difetti, ma se ti sei accettato, significa che sai vivere con quei difetti e non è un problema per te. Quindi sei a posto con te stesso. Ammettere, admit, accept, lasciare entrare, fare entrare, il pubblico può essere ammesso in questa udienza. The public may be admitted in this hearing. Quindi può essere ammesso all'udienza o in udienza. Entrambe sono corrette. Quindi, attenzione, diversamente da accogliere che era in senso positivo o accettare che era in senso sia positivo che negativo, essere costretto ad accettare qualcosa, ammettere significa, è un sinonimo di questi verbi ovviamente, ma è inteso come tollerare. Cioè, sei tu che decidi, nessuno ti costringe. Quindi, diversamente da accettare, non sei costretto ad ammettere qualcuno, sei tu che decidi. Ma, più che accogliere, essere felice di accettare qualcosa, qui è inteso come tollerare. Ossia, permettere che qualcosa succeda, ammettere una richiesta, ammettere una persona, ammettere che si faccia qualcosa. Stai tollerando, stai permettendo che qualcosa si faccia. Puoi farlo, puoi permetterlo, puoi anche non permetterlo. Se non lo ammetti, significa che non si farà, perché il potere decisionale è in mani tue. Sei tu che decidi se puoi accettare quella cosa o no. Quindi, dipende tutto da te, nessuno ti può costringere, come nell'accettare. E puoi farlo, puoi permetterlo o non permetterlo, non viene inteso come piacere. Ossia, diversamente da accogliere, tu, se ammetti qualcosa, non significa per forza che la stai accettando con piacere. Se tu accogli un'idea, significa che tu sei molto felice di accettare quell'idea. Se tu ammetti quell'idea, dici semplicemente, sì, è vero, lo accetto. Hai ragione, ma non sei contento, non necessariamente sei contento di averla accettata. Mentre se tu dici, ho accettato l'invito, puoi anche essere felice, ma anche costretto. Ho accettato, però, se sei felice, devi dire ho accettato con piacere. Mentre se dici, ho accolto, puoi anche non dirlo con piacere, perché si sottointende. Puoi dire ho accettato con piacere l'invito che mi hanno fatto, o ho accettato l'invito di andare in quella cena, anche se non mi piace, perché il mio capo me l'ha detto, quindi l'hai accettato senza il tuo volere, sei stato, come dire, costretto. Sono verbi molto usati, cercate di non confondere i contesti, ad esempio, non potete dire sono stato forzato ad accogliere questa idea, perché accogliere sempre in senso positivo. Potete dire sono stato forzato ad accettare quell'idea, e non potete nemmeno dire sono stato forzato ad ammettere quell'idea, perché ammettere si intende che il potere decisionale è in mani vostre, siete voi coloro che possono decidere su quella cosa. Siete tutto il potere in mano vostre, quindi nessuno vi può costringere. Voi potete permetterlo, tollerarlo, o no, la decisione spetta a voi, nessuno vi può obbligare a farlo. Quindi potete dire ho deciso di ammetterlo, o ho deciso di non ammetterlo, ma non sono stato costretto ad ammetterlo. Per usare delle frasi corrette e capire il contesto, vi faccio un esempio con tutti i quattro i verbi, stesso esempio, però per farvi capire il contesto userò altre parole. Potete dire ho accolto con piacere l'idea, ho adottato la sua idea, ossia ho adottato la sua idea di marketing, cioè sto facendo la stessa cosa che fa anche lui nella sua impresa, ho accettato la sua idea con piacere, o sono stato costretto ad accettare la sua idea, ho deciso di accettare la sua idea, ho deciso di non accettare la sua idea. Quindi la decisione spetta a me. Scusate, ho deciso di ammettere la sua idea, ho deciso di non ammettere la sua idea. La decisione spetta a me. Quindi con i quattro verbi si possono tutti usare il senso di accettare, ammettere, accogliere qualcosa, però i contesti sono diversi. Perché in base al verbo che si usa, si dimostra se siete felici di accettare, se siete costretti di accettare, se siete contenti di accettare o se avete semplicemente deciso di accettare qualcosa. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito ad iscrivervi al canale, a mettere un mi piace al video e all'interno del mio canale, nella playlist Vocabolario Italiano Avanzato, Canale Advanced Italian, potete trovare anche altri esempi di questo tipo. Vi ringrazio e ci risentiamo nel prossimo video. Ciao!